Dopo che è successo tutto questo, ci sono due cose che volevo dire. Prima di tutto, io vorrei fare una domanda ai russi. Chi sono? Da dove vengono che non hanno nessuna compassione o empatia né per i bambini, per le donne che vengono stuprate e ammazzate né nei confronti dei civili, gli anziani, né anche nei confronti degli animali domestici, ammazzano gli animali domestici. Io davvero non capisco chi sia questo. Allora, rientriamo su questo passaggio, perché sono le immagini che abbiamo visto, presidente Fassino, e c'è il tema della crudeltà, senza scomodare Eschilo che è stato scomodato in continuazione in questi giorni. C'è però un tema che riguarda i negoziati. Cioè, se il diavolo è quello che ci ha descritto Kulieba nelle sue parole, per non essendo che la Russia dice un orrenda messi in scena, l'ambasciatore oggi ha detto 25 dollari a persona a buscia, noi dobbiamo trattare però con questa persona, se vogliamo arrivare dalla pace tramite i negoziati. Perché non sentiamo più parlare di questo? Allora, intanto io voglio dire che concordo totalmente con le considerazioni e le votazioni che facevano sia Cremonesi che Rampini. mi pare appunto che ci sia una rappresentazione in Italia, anche altrove, secondo cui gli americani aizerebbero, non vorrebbero la pace, eccetera, eccetera, che non corrisponde al vero. E mi pare che i cremonesi e i rampini hanno dato tutte le motivazioni che smentiscono questa tesi. Però perché non si sente parlare più di negoziato, o meglio è più sullo sfondo? Per una ragione di sostanza con cui bisogna fare i conti. tutti auspichiamo il negoziato. Perché auspichiamo che tacciano le armi e si possa negoziare. Però qual è il contenuto del negoziato? Perché Putin vuole un pezzo di Ucraina. Ma questo rende impossibile un negoziato. È chiaro. Cioè, Zelensky e il gruppo dirigente ucraino sul tavolo hanno messo l'accantonamento dell'ingresso nella Nato e la neutralità. Due cose che possono favorire... Poi si erano detti anche disponibili a parlare su Donbass e Crimea. In un primo momento, poi l'abbiamo accantonato. In un primo momento anche pronte, hanno usato una formula, una soluzione condivisa. Quindi hanno dato la disponibilità a trattare. Quello che vogliono i russi è l'unica cosa che da una trattativa non può uscire. Un pezzo di Ucraina. Perché i russi hanno invaso l'Ucraina prima con l'idea di prendersela tutta. Adesso sperano di potersi tenere il Donbass e l'accesso al Mar Nero, cosa non scontata. Io sono d'accordo con le valutazioni che faceva Cremonesi. La capacità di resistenza ucraina può frustrare e sconfiggere i russi anche nel Donbass. Ma c'è un dirigente ucraino che ragionevolmente può andare a un tavolo delle trattative e dire sì, io cedo un pezzo di Ucraina alla Russia. Sicuramente non è Culeba in base anche a quello che ci diceva. Ma non solo non è Culeba.